Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Toscana Cine News. In questa puntata vi portiamo a conoscere due lavori che celebrano la figura di un grande attore toscano scomparso. Sto parlando di Carlo Monni, un attore che ha vissuto la maggior parte della sua vita a Firenze, in Toscana, nato a Campi Bisenzio nel 1943 e morto nel 19 maggio del 2013. Quindi a un anno dalla scomparsa Firenze e la Toscana celebrano questa grande figura, questo grande attore toscano con due lavori. Sarà distribuito nelle sale toscane da Cecchigorium Video il film Sogni di Gloria. Si tratta di un film di giovani autori indipendenti di un collettivo, il collettivo John Snellenberg, che ha sede proprio a Prato, che ha realizzato un film in due episodi, tutti ambientati proprio nella provincia di Prato, che vedono in protagonista proprio Carlo Monni. Si tratta di un film in due episodi che in qualche modo vuole affondare le radici in quel cinema della comedia italiana anni Sessanta, che vi ricorderete spesso era costruito proprio a episodi, ma che naturalmente racconta di tematiche attuali, come la crisi, quindi racconta di un cassa integrato, di come questa crisi venga in parte superata da un attaccarsi ai valori religiosi e poi invece ci racconta anche della grande tradizione dei circoli, del gioco delle carte, della presenza dei cinesi nella provincia di Prato. Insomma, un film interessante, complesso, che vede la recitazione di un attore che per eccellenza è interpretato da sempre la toscanità. Vediamo uno spezzone del film e sentiamo un'intervista prima a uno dei registi del collettivo John Snellenberg e poi una breve battuta con una delle protagoniste. Cos'è questo collettivo? E lei ci ha detto, ma siete una film family. Ecco, esattamente quello lì, il collettivo John Snellenberg è una film family. Siamo una decina, ci occupiamo bene o male di tutti gli aspetti della produzione del film, dalla preproduzione fino al montaggio finale. Abbiamo uno spirito molto collaborativo tra di noi, già il cinema di suo è un... ovviamente i film sono già un'opera collettiva, nel nostro caso lo sono ancora di più, proprio per questa base di reciproca stima, di un comune modo anche di vedere la cosa. Quanto è stata importante per la nascita di questo collettivo anche la presenza di alcuni luoghi del cinema, come il Terminale, il Borsi, altre sale che fanno Cimade Secchi, che in qualche modo raccolgono i cinefili? Sì, noi ci siamo formati lì. Io facevo parte di un cineclub a Montemurlo, si chiamava il cineclub Sarasceno. Siamo stati spessi, siamo avuti ovviamente, frequentiamo il Terminale, alcuni di noi hanno frequentato anche la scuola Anna Magnani. Quindi insomma i luoghi del cinema di Prato sono stati fondamentali. Sono stati fondamentali anche proprio i luoghi di Prato stessi, perché secondo noi Prato è una città molto cinematografica, molto adatta a un tipo di storia realistica, molto ricca come contraddizioni, come potenzialità, anche come facce, come vita. E quindi insomma è molto bello raccontare la nostra città, secondo noi. Ecco, tutte caratteristiche incarnate perfettamente da Carlo Monni. Esatto, sì. Carlo per noi è stata una presenza fondamentale, per noi era un mito fin da quando abbiamo visto per la prima volta Berlinguer ti voglio bene, per noi fratesi è una specie di Vangelo, per cui lavorare con Bozzone la prima volta nel 2008, quando abbiamo girato la banda brasiliana, è stata una cosa emozionantissima. Abbiamo lavorato con Carlo parecchio in sottrazione, il suo personaggio dell'Ispettore Brozzi. In questo caso qua il personaggio è stato scritto, quello di Maurino, che è coprotagonista della seconda parte dei sogni di Gloria, è stato scritto totalmente su di lui. Quindi l'abbiamo aspettato due mesi quando stava girando la fiction all'Elba, l'ultima che ha fatto, perché per noi la sua presenza era assolutamente fondamentale. Cioè Carlo Monni è Maurino in questo film, ci sono delle... conoscendolo e amandolo per quello che era, molte delle cose sono finite in questo film in qualche modo. Ecco, com'è stato per lei girare con questa troupe di ragazzi, pratesi, lei non è nativa a Toscana? No, però vivo a Firenze da 30 anni, quindi sono adottata da Firenze. Ma senti, per me è stata un'esperienza straordinaria. Ascoltavo ieri un'intervista che hanno fatto per, credo, TV Città Futura e parlavano di film family, una famiglia. Beh, è proprio questo, cioè sono meravigliosi e sono un esempio secondo me straordinario di passione, di credo, di quello che intendevo come fede, credere davvero nel proprio lavoro, nella propria... in un certo senso nella propria missione anche, no? Perché è anche questo forse... e la passione è importantissima. Io sono stata accolta a braccia aperte e mi sono divertita tantissimo, devo dire. Ma gli omaggi a Carlo Monni da parte di Firenze non si fermano qua. Infatti il 19 di maggio il Teatro di Rifredi trasmetterà dalle ore 18 alle ore 22 in loop, quindi in continuazione, un video, un video che raccoglie le migliori interpretazioni di Carlo Monni proprio al Teatro di Rifredi. Se infatti Carlo Monni aveva esordito al cinema alla fine degli anni 70 con Berlinguerti, Voglio bene, e poi aveva proseguito con le sue apparizioni in televisione a fianco di Roberto Benigni, come vi ricorderete, nell'altra domenica, in altre trasmissioni, Vita Daccioni, aveva poi avuto una lunghissima carriera cinematografica con tanti registi, Giuseppe Bertolucci e poi Massimo Troisi, Alessandro Benvenuti, insomma, tante veramente le collaborazioni con registi accreditati che lo avevano portato sulla Crescia dell'Onda ad avere una importante notorietà. Ma Carlo Monni era anche un importante attore teatrale, spesso improvvisava in rima, così com'è nella tradizione toscana, e al Teatro di Rifredi ha messo in scena molte commedie toscane e non toscane. Vediamo adesso uno spezzone di quello che è il film che si chiama Un Bohemian sul palco del Teatro di Rifredi e un'intervista al regista del Teatro di Rifredi, Angelo Savelli. Ora ditemi voi, signori, se i quattro anni di Buoso potevano finire in tasche migliori. Per questa strana bizzarria mi ha cacciato all'inferno, ecco così. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete un po' divertiti, concedetemi l'attenuante. D'altra parte non sarò mica l'unico con fatto, anzi, sapete cosa vi dico? Se tutti i labri della terra profondassero all'inferno, oggi come oggi in Italia, ci sarebbe solipare l'inferno. È una maniera non solo per ricordare Carlo Monni sul palcoscenico di Rifredi, ma per ricordare anche la grande bravura di Carlo come attore, perché tutti conoscono e amano Carlo come personaggio. e grazie.